Sulla terra il cuore non si corrompe se lo si innalza verso Dio. Se tu hai del grano in cantina, lo porti nel granaio per evitare che marcisca. Se dunque sposti il tuo grano, collocandolo al piano superiore, a maggior ragione devi preoccuparti del tuo cuore, elevandolo verso Dio. In che modo? Attraverso atti d'amore. Il corpo sale cambiando posto. Il cuore si eleva cambiando di volontà. Sant'Agostino, Omelia sul Salmo 85, 6 Le parole della fede. Una produzione Radio Più Roma.